Nessun più più no ragazzi qui tutto sotto controllo Oggi siamo nel secondo appuntamento con la top and flop della serie A Quest'oggi siamo appunto col secondo appuntamento riguardante la seconda giornata di serie A E ragazzi, una cosa, se mi vedete sempre con la stessa maglia in tutti i video dal post partita Ve lo spiego in 30 secondi velocemente Allora, la maglia questa qua l'ho presa soltanto per i post partita domenica sera Ok, me la mettevo solo per registrare il video e poi me la toglievo Che ho fatto? Dopo la serie A, dopo la fine della serie A l'ho rimasta in mezzo Così questa mattina, lunedì mattina per voi non so quanto tempo fa era, tre giorni fa, due giorni fa L'ho ripesa e me la sono messa per fare tutti questi video Tra l'ufficialità, top and flop, fantacalcio, tutto, tutto, tutto Allora ragazzi, oggi parliamo della top and flop a mio parere Io direi di partire subito con il primo top, ossia Mimmo Berardi Berardi che mette a segno una grande, grande tripletta contro la Samp Berardi che inizia sempre bene la stagione ma poi finisce male Sperando per lui che sia l'anno buono anche perché l'ho svincolato al fantacalcio E quindi mi rimarrebbe proprio l'amaro in bocca Vabbè Secondo top, derby di Roma Perché è stata una partita molto, molto bella e divertente a mio parere Soprattutto per i quattro pali, i sei pali presi Tanta, tanta roba come partita La metto nei top perché è stata davvero molto bella Poi, terza top, Torino Torino che fa una grande partita contro l'Atalanta Un grande inizio di stagione per la squadra di Mazzardi E non si può fare altro che premiarli Poi, flop Khalidu Koulibaly, ovviamente Io ci rido su, però Cioè, mi ha rovinato una serata Ha fatto perdere la partita contro la Juve Lui, da solo È un po', no, un po' Fa male, fa molto male Però, sono cose che capitano Sperando che si riprenda Perché ce l'ho affanta calcio Poi, secondo, Sampdoria Sampdoria che continua a floppare 4-1 col Sassuolo E ragazzi Di Franci Di Franci È una cosa, è la prima giornata e va bene È mai la seconda giornata Dopo la terza non c'è più tempo Perché Prima o poi è la terza, ma è la quarta Ma c'è tempo Alla fine si arriva a fine campionato Che sei tra le ultime in classifica Terzo flop Metto Musso Musso perché non mi è però piaciuto contro il Parma Al Fanta ha preso due Preso addirittura due E non mi è piaciuto affatto Per me poteva fare meglio sul gol di Gervinio Poteva fare meglio sul resto Gol della settimana Io metto Un gol che Significa tanto Lo metto più per l'importanza E per come è avvenuto Che per la bellezza Il gol della settimana Lo do a Diguain Perché è stato un gol molto molto bello a mio parere È stato bravissimo Il Pipita Ed è stato un gol importantissimo Quindi lo metto per questo Mi brucia tanto Però ho bisogno a metterlo Il giocatore della settimana Berardi Ovviamente Tripletta per lui Partitone E squadra della settimana Torino Perché? Perché mi è piaciuto tanto il Torino Ha avuto Una grande faccia tosta Ha affrontato una grande Atalanta E è riuscito a vincere Lì nel campo della Dea Ragazzi Non ricordo il nome Per questo ho fatto nel campo della Dea Mi sembra Tra ieri azzurri d'Italia Non ricordo Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Secondo voi Chi sono i top and flop di questa settimana Il gol della settimana Il gioco della settimana Nella squadra Scrivetevi qui sotto nei commenti Io spero che questo video sia piaciuto Perché quando c'è il mio piace Scherchene se ne si è già Io vi saluto E vi volete Che non c'è nessun problema Che è tutto sotto controllo Bella Mamma mia quanto sono veloce